Ciao, ciao! Innanzitutto io volevo dirvi una cosa, che sono molto contento di essere qui con voi, perché un po' di anni fa anch'io ero dalla parte vostra, quindi sono veramente molto felice e se volete farmi delle domande io sono a vostra disposizione. Diciamo che fa piacere essere di punti di riferimento, magari per qualcuno, magari per qualche bambino. Ti ripeto, anch'io ero dalla vostra parte e mi ricordo che anch'io quando ero piccolino ci avevo dei punti di riferimento, dei giocatori importanti e quindi cercavo di guardarli e di imitarli. Però un campione è una parola grande, io non mi sento un campione. A parte che quando sei piccolino vuoi anche da giocare a calcio per trovare i tuoi amici, perché quando torni da scuola comunque c'è un po' di tempo per svagarti, per stare insieme agli amici, ti diverti un pochino e quindi secondo me è una cosa bellissima, soprattutto dopo la scuola avere uno sport dove ti vai a sfogare e dove ti vai a divertire. Abbiamo una squadra all'altezza della situazione, è una squadra secondo me forte e sicuramente con il lavoro e con il gruppo tutti insieme riusciremo a uscire da questa situazione. Beh, oltre al calcio guardo tanto il tennis, il tennis mi piace, poi mi piace anche il basket, però ho una passione che dopo il calcio mi piacerebbe anche portare avanti che è la pesca, a me piace tanto andare a pescare. No, è proprio benissimo. Grazie a tutti.